La notizia di questa mattina è che le province non sono state cancellate, è l'ennesima dimostrazione. Si erano aperti dei ragionamenti sull'area vasta, sulle aree omogenee, su come superare il modello delle province. Quindi dare seguito a una riforma del Rio è stata ampiamente criticata da tutti i gruppi, anche dallo stesso gruppo che sostiene il Ministro e di cui fa parte il Ministro. E ci troviamo invece a mettere una toppa, a fare una sorta di proroga per un anno nell'attesa che magari venga approvata poi anche la riforma costituzionale e poi si possa intervenire. Penso che si sia mancato di coraggio in due fasi. Uno è prendersi la responsabilità di decidere come programmare il territorio lombardo. E la seconda è non dare risposte alle professionalità che all'interno degli enti provinciali hanno sempre lavorato. Perché uno dei temi più grossi era quello riferito, anzi sono certo che il sottosegretario Nava sia corrente, è quello relativo al personale delle province ed è un nodo che sostanzialmente non è stato assolutamente risolto. Almeno non in una prospettiva di medio-lungo periodo. Ma si è voluto mettere una toppa a una riforma che a detta di tutti era ampiamente sotto le aspettative. Quindi si è ragionato e si è detto più volte che andava riformato il sistema istituzionale soprattutto in una regione di 10 milioni di abitanti come la Lombardia che non può vedere il sindaco del paesino di 800 abitanti rapportarsi col presidente della regione. Ma in realtà si è lasciata la provincia con quei confini senza ridisegnare nulla, senza ragionare in prospettive future mettendo una toppa, riprendendosi agricoltura, caccia e pesca e rimettendo lì delle risorse. E sinceramente noi non siamo assolutamente soddisfatti perché la risposta più chiara che andava data che era quella di tranquillizzare e capire come inquadrare i lavoratori non è stata data. Non è stato fatto nessuno sforzo per riorganizzare il territorio. E quindi sinceramente non siamo assolutamente soddisfatti a questo. In più voglio aggiungere una provocazione che avevo fatto anche in Commissione Riordio delle Autonomie riguardo alle comunità montane. Oggi abbiamo due enti di secondo livello all'interno delle stesse province, nella maggior parte delle province. Anche qua forse si è rinunciato, anche se io spero che poi con la discussione del provvedimento del progetto di legge ci sia spazio, anche se sinceramente ne vedo poco, per discutere anche del ruolo delle comunità montane. Perché due enti che a nostro modo di vedere sono inutili, siamo aperti a tutte le posizioni, che sono enti di secondo livello, quindi non eletti dei cittadini che devono programmare attività del territorio, per noi sono troppi e rischiano poi di andare a sovrapporsi e anche generare caos istituzionale. Secondo noi questo modello va superato, va superato in un'ottica di condivisione e di coraggio per una migliore gestione del territorio, perché noi oggi davvero ci troviamo i dipendenti che sono ancora nel caos, ci troviamo una marea di disservizi, questo non solo per colpa di Regione Lombardia, perché ricordiamo che il Governo ha tagliato le province solo nell'ordine dei fondi ad essere destinato e questo poi si tramutano in voragini sulle strade provinciali. Io penso che tutti noi giriamo in lungo e in largo la Regione e ce ne siamo accorti del peggioramento alle situazioni delle strade provinciali, anche dei servizi sull'edilizia scolastica e altri servizi che sono delegati invece direttamente dal Governo e per cui le province non prendono più un euro e non erogano più servizi. Quindi ci voleva coraggio, è stata messa una toppa, io auspico che in questi due mesi di lavoro che ci mancano alla calendarizzazione dell'Aula per il 30 giugno del provvedimento si possa davvero mettere un poco di ordine e fare chiarezza e essere in grado di programmare seriamente la sette istituzionale della Regione Lombardia non nell'interesse dei partiti e delle posizioni all'interno delle singole istituzioni ma nell'interesse dei servizi ai cittadini che stanno sinceramente subendo quello che non merita dato che pagano una marea di tasse e non si vedono assolutamente riversare quei servizi che dovrebbero essere garantiti dagli enti Regione Lombardia, le province e le comunità montane sul territorio. Quindi chiedo un atto di coraggio maggiore adesso sulle discussioni e provvedimento guardando l'interesse del cittadino e non delle poltroncine dei vari enti. Grazie.